Oltre 50 milioni di euro per potenziare la sanità territoriale e ospedaliera pubblica. 12 interventi sono questi i numeri del programma dei lavori pubblici che l'ASL Foggia ha aggiornato e approvato per il triennio 2024-2026. Adottato con deliberazione del direttore generale l'11 gennaio, il programma è stato redato dall'area gestione tecnica ed aggiornato in base ai bisogni e alle esigenze aziendali e in considerazione delle norme in merito agli adeguamenti delle strutture sanitarie, degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e aziendale e delle indicazioni della direzione strategica. Il programma contiene gli interventi che richiedono finanziamenti superiori a 150 mila euro che saranno finanziati con i fondi della legge finanziaria cui si aggiungeranno le risorse del fondo di sviluppo e coesione. Gli interventi riguardano la costruzione di una struttura polifunzionale sanitaria a Foggia e una invece a San Severo, l'adeguamento e la riqualificazione dei presidi ospedalieri di Cerignola, San Severo e Manfredonia, l'adeguamento impiantistico e antincendio del presidio ospedaliero di Manfredonia e poi la riqualificazione del presidio territoriale di assistenza di Torre Maggiore e così come il potenziamento del presidio territoriale di assistenza di San Marco in Lamis. Tra i dodici interventi c'è anche l'adeguamento e il potenziamento tecnologico del presidio territoriale di assistenza di Vieste e la realizzazione di una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza ad Accadia e poi la riqualificazione energetica e l'adeguamento alle norme delle strutture sanitarie di San Nicandro Carganico. Infine è prevista la realizzazione di una struttura sanitaria a Roseto-Balfortore. Ai dodici interventi si aggiungono poi altri sul territorio di importi inferiori ma già programmati e finanziati dalla finanziaria. L'obiettivo generale del programma, ha spiegato il direttore generale dell'AS del Foggia Antonio Nigri, è il potenziamento dei servizi di sanità territoriali e ospedaliera pubblica in un'ottica integrata. La realizzazione anche di nuove strutture, l'acquisto di tecnologia all'avanguardia su tutto il territorio di Capitanata permetterà dunque il potenziamento della sanità foggiana. E proprio per evidenziare l'importanza della sanità nel territorio foggiano, ieri all'Università di Foggia si è svolta la presentazione del Master di secondo livello dedicato proprio alle strategie del sistema sanitario regionale. Illustri ospiti hanno spiegato ed evidenziato i programmi del Master di secondo livello in Economia e Management.